Imprese, quote, societarie, beni immobili ed immobili e rapporti bancari per un valore di 3 milioni di euro sono stati confiscati questa mattina dagli agenti della DIA di Caltanissetta al gelese Francesco Antonio Cammarata, 56 anni. Per gli inquirenti l'uomo è legato alla famiglia di Cosa Nostra, riconducibile al boss Giuseppe Piggio Madonia. Tra i beni finiti sotto chiave c'è la cava di contrada a Bulala. Il decreto di confisca ai sensi della normativa antimafia è stato emesso dal Tribunale di Caltanissetta a sezione misure di prevenzione a seguito della proposta avanzata dal direttore della DIA Nissena. Secondo quanto appurato dalle indagini Camarata, titolare a Gela della cava di estrazione di materiali inerti e di un'impresa per il trasporto e la posa degli stessi, è risultato a disposizione e in rapporto d'affari con l'organizzazione mafiosa a cui ha trasferito nel tempo ingenti disponibilità finanziarie attraverso l'illecito sistema delle sovrafatturazioni di forniture e o trasporti. In cambio al Camarata veniva garantito di acquisire attraverso la forza di intimidazione del sodalizio mafioso posizione dominante e di esclusivo controllo nel settore nevralgico delle forniture e del trasporto dei materiali inerti diffusamente impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e private anche al di fuori della provincia Nissena. La polizia di Gela ha eseguito numerosi controlli in diversi esercizi commerciali del territorio, bar, comprooro, sala giochi ed internet point. Il bilancio è stato di un'ordinanza di chiusura di una sala giochi abusiva, 5 esercizi commerciali controllati, 47 le persone identificate e 8 le infrazioni elevate. In particolar modo è stato riscontrato che un gelese di 35 anni ha gestito senza licenza del questore una sala pubblica da gioco. Dentro il locale inoltre gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente circa 10 grammi di hashish divisa in dosi. Lo stupefacente è stato sequestrato e sono in corso indagini per individuare il possessore della sostanza vietata. Durante l'operazione è stato proposto a carico di una 76enne il divieto di detenere armi e munizioni perché era privo della certificazione medica prevista attestante il requisito psicofisico, mentre un modicano di 85 anni, residente a Gela, è stato segnalato per non avere comunicato la variazione del luogo di detenzione delle armi denunciate.